Cobra scrive, ciao grande Pino, che vergogna è il trattamento riservato ad Omar Pedrini al primo maggio, ma hai visto? Non l'ho visto però, ho letto qualcosa, volevo chiamarlo però preferito non chiamarlo perché magari era incazzato. In poche parole l'hanno chiamato giù al primo maggio, fratello se vai a Mulino, ti infarini, hai capito? Quelli sono posti da evitare, poi organizzate dai sindacati quel posto. Perciò già per quello bisognerebbe snobbarlo quel palco proprio. Effettivamente su quel palco ci sono i soliti comunisti col culo degli altri, Silvestri, sempre quella gemma, quelli che non si espongono mai, no? Non dicono mai niente ai ragazzi, ai giovani, sulla politica, sul fatto che gli stanno fottendo la vita. Non dicono mai un cazzo sta merda, no? Niente proprio, non si espongono mai.